Un incontro che dura solo due ore, quello di Papa Francesco con la gente di Cesena, nel cuore della Romagna, in una grigia domenica d'inizio ottobre, ma colorato e riscaldato dall'entusiasmo di migliaia di fedeli e cittadini che accompagnano la Papa Mobile dall'eliporto dell'ippodromo fino a Piazza del Popolo. Qui il Papa incontra la città che festeggia e 300 anni dalla nascita di Pio VI, il Cesenate Gianangelo Braschi e sottolinea che lavorare tutti insieme per il bene comune è la base del buon governo della città stessa. Per la vita della comunità è necessaria la buona politica, non asservita ad ambizioni individuali e che non lascia ai margini alcune categorie. Una politica che ha bisogno di giovani preparati che respingano ogni forma di corruzione. La corruzione non lascia crescere la civiltà e il buon politico ha anche la propria croce quando vuole essere buono. Perché deve lasciare tante volte le sue idee personali per prendere le iniziative delle altre e armonizzarli, accomunarli perché sia proprio il bene comune a portare avanti. In questo senso il buon politico sempre finisce per essere un martire, diciamo così, al servizio perché lascia le proprie idee ma non le abbandona, le mette in discussione con tutti per andare verso il bene comune. E questo è molto bello. Purtroppo in questi anni la politica, riflette il pontefice, è sembrata ritirarsi di fronte all'aggressività di altri poteri come quello finanziario e quello mediatico. Occorre rilanciare i diritti della buona politica, la propria indipendenza, la sua idoneità specifica a servire il bene pubblico, ad agire in modo da diminuire le desuguaglianze e a promuovere con misure concrete il bene delle famiglie, a fornire una solida cornice dei diritti-doveri, bilanciare tutti e due e a renderli effettivi per tutti. Sceso dal palco, prima di risalire in Papa Mobile, Francesco incontra alcuni ragazzi e bambini disabili. Un piccolo non vedente, nel momento dell'abbraccio, accarezza il suo volto. Poi il trasferimento alla cattedrale con la sosta per l'inaugurazione del Largo Pio VI. Nel Tempio il Papa si avvicina ai fedeli e religiosi assiepati lungo la navata centrale per l'incontro con il clero, i consacrati e i laici rappresentanti delle parrocchie. Suo rimelde, 105 anni, gli svela la sua ricetta di lunga vita, patate e mortadella. Dopo la preghiera nella cappella della Madonna del Popolo, il pontefice sottolinea che l'annuncio del Vangelo è più efficace se c'è la corresponsabilità di tutte le realtà ecclesiali e i soggetti pastorali, strette attorno al Vescovo. Curate le piaghe delle persone ferite dalla vita, sostenuti dalla preghiera e l'invito del Papa per una vera rivoluzione della tenerezza che coinvolga e ascolti giovani e anziani. E questa è la ricetta rivoluzionaria di oggi, che i vecchi non entrino in quella strada di dire ma sono cose passate e tutto è arroscinito. No, sogna, sogna e il sogno del vecchio farà che il giovane vada avanti, che sia entusiasmi, che sia profeta, ma sarà proprio il giovane a far sognare il vecchio e prendere questi sogni. Mi raccomando voi nelle vostre comunità, nelle vostre parrocchie, in vostri gruppi, cercate di che ci sia questo dialogo, ma questo dialogo farà dei miracoli. Al termine del suo intervento in sacrestia Papa Francesco incontra anche la famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII che gestisce la casa di accoglienza appena inaugurata nel Vescovado, la testimonianza di Ezio e Simona Nobili. Noi siamo arrivati qua due settimane fa, siamo ancora con le scatole in casa e il Papa viene e il Vescovo ci chiede di incontrarlo, proprio per benedire questo inizio di cammino. Il Papa, per primo, sta diffondendo proprio questo messaggio di misericordia, di accoglienza, di attenzione all'ultimo e soprattutto nel nostro carisma c'è di incontrare a Gesù nei più poveri. Quindi quello che dobbiamo fare è cercare di vivere la nostra vocazione rispondendo ogni giorno a quello che il Signore ci chiede attraverso l'incontro con i più necessitati. E noi, vivendo la dimensione dell'accoglienza in famiglia, perché comunque il babbo accoglie la mamma e i genitori accogliono i figli e i figli accolgono i genitori, ecco, questo è diciamo l'ambiente più naturale per poter accogliere anche chi davvero non ha fatto esperienza di famiglia o comunque ne è stato privato. E quindi ecco, il dono grande che abbiamo tutti quanti della nostra famiglia, che può essere dono per gli altri. Sulla strada che lo riporta all'ippodromo di Cesena e all'eliporto, il Papa ha accanto a sé in Papa Mobile il Vescovo, Monsignor Douglas Regattieri. E' adesso in macchina, mi ha detto, non si meravigli se io ho delle espressioni molto terra terra perché io mi sento un parroco, così mi ha detto.